ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita con una nuova news la news riguarda stellaris già tempo fa vi avevo dato la notizia che lo ministra aveva portato avanti con tutto il team il vecchio traduttore insomma la traduzione di questo gioco ma sono arrivate appunto due traduzioni interessanti per quanto riguarda due tale mod più diffuse del gioco le andiamo a vedere e la miss la mod principale la prima ve la faccio vedere subito la mod è planetary diversity cioè praticamente una delle più importanti insomma una delle due che vi mostrerò in questa news cioè praticamente aggiungere una serie di mondi e di eventi legati ad essi quindi sarà molto interessante è una mod comunque da 600 mega quindi una mod bella bella tosta e la potete trovare qua avete i riferimenti io vi faccio vedere dov'è la traduzione in italiano questa è la traduzione in italiano quindi la trovate tutta tradotta con anche le istruzioni insomma e l'altra traduzione che vi voglio mostrare è la more events mod che è questa è praticamente va ad aggiungere nuovi eventi al gioco per dargli quella maggiore profondità e anche qui vedete la la traduzione con la l'ordine giusto di avvio di tutte le mod quindi abbiamo al primo posto va messa la stellaris traduzione italiana la planetary diversity e poi la patch di traduzione della planetary diversity la more event mod e la traduzione più che altro la planetary diversity ha diversi addon tra cui anche gli habitat insomma e la traduzione di queste due mod da quanto mi ha detto lo mist dovrebbe essere stata fatta a carico di cometer quindi lo ringraziamo a breve uscirà per stellaris la patch 3.3 che quanto mi ha detto lo mist aggiungerà diverse cose e quindi si metteranno poi al lavoro anche per la traduzione di questa patch io ringrazio sempre il team di lo mist per la traduzione di questo gioco e spero di avervi fatto cosa gradita ad aver riportato la news di queste due mod piuttosto enormi che vanno ad approfondire stratificare ulteriormente quello che già è un grandissimo immenso gioco che è stellaris fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi e alla prossima ciao ciao